Bentornati su No Mamamazzo. Oggi vorrei parlare con voi di Lupin, la serie tv francese che sta spopolando in questi giorni su Netflix. E sì, perché anche dopo la Spagna con la Casa di Carta, anche la Francia sta iniziando a sbancare finalmente su Netflix. Lupin è stato al primo posto nei più visti per diversi giorni. È una serie tv francese di cinque puntate, sono proprio puntate, non episodi, poi vedremo perché. E se fate caso bene al titolo c'è scritto Lupin prima parte. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, di condividere il video con tutte le persone che sono ladri e gentiluomini e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questa fantastica serie tv. Già che ci siete iscrivetevi anche agli altri miei social che appaiono qua sotto mentre stiamo parlando e sono anche in descrizione. In descrizione trovate sempre nei miei video dei link Amazon che vi consiglio su degli acquisti che potete fare, che contribuiranno in maniera totalmente gratuita al sostentamento del canale. Facciamo un'importante premessa sul fatto che Lupin non è una prerogativa del personaggio che vedete qui davanti. Se per caso non lo sapeste, il personaggio medesimo prende ispirazione, neanche il nipote nella finzione narrativa, di Arsenio Lupin che è un protagonista, un personaggio di un romanzo francese. Ed è proprio da qui che i francesi si riappropriano di questo personaggio. Questa miniserie può ricordare vagamente dal titolo il nostrano lo chiamavano Gigrobo, ovvero dove c'è un protagonista che rispetto al nome che porta ne ha solo appunto il nome. Prende diciamo ispirazione da un personaggio più illustre perché ne segue le gesta. Qui però si va un pochino più a fondo perché a Sandy Hop, che è appunto il nome del personaggio, del protagonista, per compiere quello che fa si ispira proprio a tutti i romanzi di Lupin. Quindi il suo modus operandi è proprio quello di omaggiare questo personaggio, questi romanzi. Rendendo a tutti gli effetti questa serie tv una vera e propria trasposizione in chiave moderna di quello che è Arsenio Lupin. E da questo punto di vista ci può ricordare un pochino di più invece lo Sherlock britannico, quello con Benedict Camberbatch, anche se lì è un vero e proprio Sherlock Holmes riportato ai giorni nostri. Qui invece dice non c'è nulla di tutto ciò, Lupin è comunque un romanzo e il protagonista a Sandy Hop ne prende ispirazione, però riportando a tutti gli effetti le malefatte che ha compiuto Lupin nei romanzi. La cosa bella di questo protagonista e della serie in sé è che non tutto è come sembra. Noi dal trailer di Netflix vediamo solo la trama della prima puntata che di per sé è un minifilm e da lì possiamo solo capire che pensiamo quantomeno che questo Lupin, questo Sandy Hop sia un inserviente che vuole rivalersi sulla vita, sul fatto che comunque fa un lavoro umile che comunque non gli dà chissà quale stipendio e vuole rivalersi con un paio di soci rubando un gioiello che è presente a Louvre dove lavora come inserviente. Ma in realtà capiamo mentre guardiamo l'episodio che c'è molto di più di questo. Stiamo solo grattando la superficie di tutto quello che andremo a scoprire. Scopriamo nelle altre puntate che questo nostro Hassan, questo Lupin, è sempre due passi avanti rispetto ai suoi coprotagonisti, ai suoi antagonisti. Lo vediamo in alcune puntate dove comunque è messo in difficoltà, ma vediamo come riesce comunque a cavarsela sempre prendendo la situazione e mettendola sempre a suo vantaggio. Il carisma di questo personaggio, interpretato peraltro da Omar Simi, mi scuso con la pronuncia, spero di averla pronunciato giusto, è che è un attore che io ammiro molto, l'ho scoperto come penso tutti nel film Quasi Amici, che è tratto dal romanzo Il Diavolo Custode, che vi metto qui sotto eventualmente. E da lì sono anche rimasto affascinato da come questo attore sia appunto di per sé carismatico, quindi attore carismatico, personaggio carismatico, accoppiata vincente per un personaggio che può diventare un'icona come altri che hanno portato il suo nome per l'appunto. Tra l'altro io adoro tantissimo il doppiatore che usano per Omar Simi, che è lo stesso che hanno usato per Ross di Friends, se per caso vi ricorda qualcuno quella voce, è una voce che calza a pennello, che gli dà proprio una profondità al personaggio che riesce a rendere bene anche in italiano. Poi mi piacerebbe anche rivedermelo in francese, magari vi farò sapere se in francese è un pochino diverso, però mi è piaciuto davvero molto. Come sempre quando si tratta di racconti dove c'è da scoprire qualcosa mano a mano che si guardano, io non voglio fare spoiler, appunto perché non parliamo qua di cinecomics, ma di appunto una crime story se vogliamo dire, un'avventura, quindi non voglio spoilerare troppo. La recensione quindi è totalmente non spoiler, si conclude qui, ma vi dico guardatelo, guardate Lupin, è ora su Netflix e scrivetemi qui sotto se vi è piaciuto cosa ve ne parso e se c'è qualcosa che non vi è piaciuto, fatemelo sapere qui sotto. Io come sempre qua in descrizione se riesco vi metto anche i romanzi del segno Lupin così se volete potete acquistarli. Come sempre io con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.